Anche in prossimità del Vaticano, dice Stazione Termini o Parlamento, perché già ricosta di meno. Perché abbiamo deciso allora insieme alle attività commerciali di fare un prezzo alto per far sostare solo mezz'ora e basta. Per un ricambio, dice lei. Perché noi siamo disponibili anche a rivedere le tariffe e vorremmo farlo però con l'associazione dei commercianti, perché poi non voglio avere la lamentela di chi dice se facciamo pagare 0,50 centesimi, lasciano la macchina tutto il giorno. Ma già un euro sarebbe forse... Ma noi siamo disponibili a rivederlo, assolutamente. Però dobbiamo fare in sintonia con le associazioni, perché poi non vorrei che ci fosse la lamentela, perché nel passato c'è stata questa lamentela, che praticamente con 0,50 centesimi ogni mezz'ora, quindi significava un euro all'ora, con 4 euro tenerebbe la macchina mezza giornata, e quindi non c'è il ricambio per le attività commerciali.